Dunque, prima domanda, che cos'è Ubenda, come è nata e qual'era l'idea che stava all'origine di questo progetto? Ciao, io sono Andrea Gennangelo, ho fondato Ubenda. Io sviluppo siti web da quando avevo 10 anni, da una vita, e mi sono accorto nel tempo di un piccolo problema, cioè che ogni sito web del mondo, anche ogni applicazione mobile, ha bisogno per legge, in tutto il mondo, di un'informativa privacy, di una privacy policy. Affrontando il problema tante volte da solo, ho pensato, ma perché qualcuno non lo risolva una volta per tutte? Così che due anni fa ho avuto l'idea, e in questi due anni ho cercato di realizzarla, appunto di risolvere una volta per tutte il problema della privacy policy, per i siti web, senza bisogno di consulenza giuridica, scegliendo un'altra strada, quella di un generatore automatico, di un software, che si usa via web, e che permette da soli di comporre questo documento giuridico. Non viene visualizzata nessuna parte del documento finale, semplicemente bisogna premere alcuni pulsanti, e il documento viene assemblato un po' come un puzzle. Questo documento, la privacy policy, viene poi gestito da noi, così noi possiamo aggiornarlo, fare la manutenzione, e viene integrato con il sito web tramite un piccolo codice, e questo codice assomiglia molto a, insomma, questo sistema assomiglia molto a quello di Kati Commons, che è abbastanza comune. Qual è la tecnologia quindi che ci sta dietro? La tecnologia in realtà è abbastanza semplice, perché noi abbiamo un database che contiene i pezzettini modulari di informativa legale, e poi noi abbiamo creato un'interfaccia che è semplice, non parla nel linguaggio degli avvocati e di chi ne sa, ed è fatta apposta per chi fa sito web, e quindi parla il loro linguaggio e li permette, premendo dei pulsanti, di aggiungere questi piccoli moduli, che corrispondono ai servizi che sito web utilizza per raccogliere dati personali, servizi di statistica come Google Analytics, di advertising come AdSense. Dimmi, quali sono i numeri di Juventa a questo punto? Li abbiamo lanciato tre mesi fa, e in questi tre mesi abbiamo circa 2500 persone in lista attesa, con un centinaio di siti web che corrispondono ai nostri beta tester, cioè le persone che fino ad ora abbiamo invitato, e questi hanno contribuito a visualizzare la nostra privacy policy in un milione di pagine, già. Notevolissimo. Un'altra domanda che ti volevo fare è come ti sei organizzato poi per i finanziamenti per questa azienda. Per prima cosa io ho cercato, ho percorso un po' tutte le strade che alla fine hanno portato il finanziamento, e la prima strada è stata creare un gruppo di coetanei, tuttavia questo gruppo non funzionava e si è arenato dopo un po'. Poi ho cercato la collaborazione di una web agency, che però non l'ho trovata, nonostante abbia fatto il giro a Bologna. L'unica possibilità residua era quella di chiedere finanziamento da venture capital, e da lì ho iniziato un percorso, ho incontrato più o meno tutti i venture capital italiani nell'ambito seed, quindi a livello di prototipo o poco più, e alla fine ho trovato tre investitori, due angel e un fondo. Dopo un percorso abbastanza lungo, dal primo incontro sono passati otto mesi. Quindi, vista questa tua esperienza in merito, quali sono i consigli che daresti a chi volesse aprire una start-up a questo punto in Italia? Per quanto riguarda il lato finanziamenti, secondo me è avere pazienza, perché c'è bisogno che, soprattutto quando lo stadio seed non ha i numeri da mostrare, per dire sono interessanti, si basa tutto sul livello umano, bisogna avere pazienza di farsi conoscere e farsi stimare dalle persone che poi devono darti i soldi, perché quello è l'unica materia di giudizio per loro. E poi di essere sicuri, di essere pronti, sia dal punto di vista personale, perché è veramente molto duro, è lungo, è molto duro, tutti i giorni, ci vuole veramente molta energia, sia dal punto di vista delle capacità, perché soprattutto nell'ambito web vedo tante persone che si improvvisano perché le barriere sono scarse, però poi in realtà spiegano nel loro tempo perché non hanno abbastanza esperienza e capacità di edifici. Ti faccio un'altra domanda, per quanto riguarda l'accuratezza delle informazioni che sono fornite nelle vostre privacy policy, per quanto riguarda l'accuratezza delle informazioni contenute nelle vostre privacy policy, da chi sono scritte? Il nostro team è composto da tre persone, ci sono io, che sviluppo e in più gestisco tutto, un po' tutto, insomma, e poi c'è uno sviluppatore e c'è un legale, e quindi tutto quello che gli utenti vedono, quindi tutto quello che compone la loro privacy policy è scritto da un legale che è uno dei cofondatori, inoltre la nostra privacy policy è molto più precisa della media e di quella che viene in genere scritta da un legale che non capisce in genere a fondo come si costruisce un sito web, insomma, quando ero a Seedcamp ho fatto una battuta tutti hanno riso, e se tu chiedi a un legale cos'è un cookie, che in inglese vuol dire biscotto probabilmente inizia a parlare di cioccolata, invece è un'altra cosa. Chiarissimo. Dimmi, quali sono le prospettive quindi di Juventa per il futuro? Intanto, visto che ho ricordato Seedcamp, quando ero lì ho detto che il nostro obiettivo di conquistare il footer, cioè il fondo di ogni sito web nel mondo, quindi intanto abbiamo un bel traguardo. E poi, secondo me, questa non è la fine, nel senso che la privacy policy è solo un documento legale che noi stiamo informatizzando e questo approccio modulare si può applicare a tutti i documenti legali. Ovviamente, quando si tratta di gestire un sito web, magari ci sono anche altri aspetti da curare. Avete in mente di estendere le attività anche in quelle direzioni? Per ora siamo focalizzati intanto sul risolvere questo problema in modo profondo e soddisfare gli utenti in modo pieno, cosa che ancora non abbiamo raggiunto. Poi non disegnare l'importanza di trovare il fit dal punto di vista economico, perché questo non è assolutamente un dettaglio. E poi, secondo me, già facciamo molto. Insomma, risolviamo un problema molto piccolo, però molto esteso. Un'altra domanda. Yubenda diventerà mai a pagamento? Sì, anche se l'idea è di tenere una versione free, molto limitata del prodotto, per poi far pagare comunque somme piccole, considerando che si parla di somme per ogni sito web e somme annuali. L'idea è che, siccome il web designer medio ha molti siti web, questo ci permette di tenere un pricing molto basso sul singolo sito web, facendo massa sugli utenti più attivi. Ci sarà eventualmente una versione, magari appunto, per aziende, piuttosto che persone che ne hanno molti di siti? Sì, diciamo che ora stiamo cercando di risolvere il problema eliminando tutta la complessità. Poi ci sono alcuni problemi che sono molto specifici, solo per alcuni tipi di clienti che ora abbiamo deciso di accantonare, per testare il prodotto con meno variabili possibili e con meno disturbi possibili. Poi ci sono alcuni sviluppi, per esempio il fatto di avere l'informativa privacy in molte lingue, che sono tipici di siti web molto grandi e che possono essere uno sviluppo importante per aumentare di molto il valore del prodotto, considerando che tra l'altro un documento regale è molto costoso, farlo in 10 lingue può costare anche 5 mila euro. Quando aprirà la versione beta a tutti gli utenti? Già ora, nella scorsa settimana, abbiamo aumentato di molto il numero di persone che entrano. Fino ad ora abbiamo invitato 100 persone, ora ne saranno circa 15 a settimana e cambieremo un po' i numeri per stare dietro agli utenti in modo stretto e in modo esauriente. Comunque già da ora gli utenti italiani hanno più facilità di accesso. Per quanto riguarda l'apertura completa, ora siccome stiamo ridisegnando totalmente il sito dal punto di vista grafico soprattutto, vogliamo aspettare di avere pronta questa nuova versione in modo da offrire veramente qualcosa di bello agli utenti. Abbiamo anche convolto un designer molto bravo, anche molto conosciuto per aiutarci. E dici, chi è a questo punto? Ah beh, si chiama John, è un ragazzo olandese, abbastanza conosciuto nel mondo del web design, diciamo. Puoi darci qualche anticipazione rispetto ad eventuali modifiche, cambiamenti, miglioramenti di venda in futuro? Beh, intanto ora ci stiamo concentrando sul fatto di rendere la privacy policy che noi offriamo non solo utile, ma anche bella esteticamente, in modo che integrare sul proprio sito sia un piacere e non solo qualcosa di utile. Questo attualmente è il focus. Chiarissimo. Diventerà magari anche customizzabile a seconda del sito dell'utente? Sì, già ora è molto customizzabile e inoltre stiamo aggiungendo funzioni per renderla ancora più adattabile alla necessità del sito. Per esempio già è possibile da qualche giorno inserire parti di testo totalmente scritte dell'utente e poi stiamo permettendo in questi giorni di customizzare, di personalizzare i singoli servizi. Per esempio una registrazione richiede di modificare i campi richiesti, possono essere nome, cognome, date di nascita. Stiamo lavorando su queste piccole cose per rendere la privacy policy sempre più rispondente al sito web che la ospita e in più stiamo iniziando a studiare l'implementazione delle applicazioni mobili che hanno anche loro questo problema. Quando pensi che saranno disponibili quelle mobili? Fare una stima è ancora difficile, però si parla comunque di settimane, qualche mese al massimo, nel senso che non c'è molto lavoro da fare, ora siamo molto veloci. Ottimo, Andrea ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo e di essere stato qui con noi oggi. Grazie. Spero che avremo modo di incontrarci presto e in bocca al lupo con il vostro progetto. Crepi, ciao ciao. Ciao.